www.pegasomobili.it L'Alessandria Calcio è da ieri a Bardonecchia per la preparazione per il campionato. Dopo il saluto ufficiale all'autorità della Valle di Susa, mister Stellini ed il direttore sportivo sensibile lavorano per rendere ufficiale la rosa che formerà la prossima Alessandria Calcio. Intanto la società ha confermato e reso ufficiale di aver definito l'ingaggio del terzino Giacomo Sciacca, classe 1996, giocatore proveniente dall'Inter. Con i nerazzurri ha disputato il settore giovanile per poi fare esperienza in Lega Pro con le maglie di Renate e Piacenza. Difensore centrale ma facilmente adattabile anche sulla fascia destra, Sciacca ha sottoscritto con i grigi un contratto triennale. Da oggi quasi tutti i giocatori sono già a disposizione di mister Cristiano Stellini a Bardonecchia. E a proposito i terzini destri, l'Alessandria è molto vicina anche all'argentino Tiago Mattias Casasola, ex Trapani e Como e di proprietà della Roma. Il presidente Luca Di Masi ha intanto lanciato un invito alla tifoseria auspicando di guardare avanti. Ripartire è un obbligo, ha detto il presidente Di Masi, ma dobbiamo farlo con la serenità e l'impegno di tutti. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo, in collaborazione con... C'è un solo posto dove trovare tutto per l'edilizia. Sacchi Vittorino a Mandrogne. Materiali edili, piastrelle, arredobagno, serramenti e un professionale centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati. Sacchi Vittorino, dillo al tuo vicino. Avete sentito la notizia? Il circolo La Familiare, in Viale Massobrio 24 ad Alessandria, ha riaperto la stagione estiva di ballo. Tutti i sabati e tutte le domeniche si balla in liscio in compagnia di buona musica, con DJ e orchestra e spettacolo. Da non perdere, domenica 16 luglio, l'evento della serata televisiva da ballo con l'orchestra Alex Cabrio. Vi aspettiamo nella rinnovata struttura del circolo La Familiare di Alessandria. Promettiamo puro divertimento e tutta la nostra capacità di accogliervi in un ambiente sereno, curato e suggestivo per farvi trascorrere serate uniche. A vostra disposizione un perfetto servizio bar ed un ottimo ristorante per scoprire i piatti tipici e le specialità del territorio. Circolo La Familiare, in Viale Massobrio 24 ad Alessandria, un inesauribile giacimento di musica con DJ e di liscio con grandi orchestre. L'estate è arrivata al Parco Acquatico Lavagello, che ti aspetta a Castelletto d'Orba. E se sei un centro estivo, chiamaci al numero 0143 830691 o scrivici a info-lavagello.it per scoprire il prezzo a te dedicato. Parco Acquatico Lavagello, il divertimento a portata di tutti. Parco Acquatico Lavagello, il divertimento a portata di tutti.